Buongiorno nuovamente, l'obiettivo di oggi è quello di proseguire la nostra panoramica sulle caratteristiche di R e di RStudio per iniziare a comprendere meglio come funziona. Il prossimo laboratorio non sarà ovviamente questa settimana perché giovedì è già vacanza, ma sarà la settimana successiva e in quel laboratorio si tratterà di mettere in pratica un po' delle cose che abbiamo visto lunedì scorso e che vedremo oggi. Allora, la prima cosa importante da utilizzare come strumento, a parte gli script che abbiamo visto la volta scorsa che ci permettono di rieseguire una serie di istruzioni, di calcoli, è uno strumento che si chiama R-Notebook o in realtà che è una caratteristica, un'applicazione specifica di R-Markdown. Che cos'è un Notebook o Markdown? Allora, trovate uno strumento simile anche in Python. Per chi conosce Python esistono quelli che si chiamano i Jupyter Notebook. L'idea è quella di mescolare all'interno di uno stesso documento del testo e del codice. Allora, quello che vedete qui è un documento, il documento usa una notazione che si chiama per appunto Markdown e in questa notazione abbiamo del testo, come questa sezione qui, che sto evidenziando, e poi abbiamo dei blocchi di codice R, come questo che sto evidenziando. All'interno del testo ci sono, oltre al testo vero e proprio, alcuni blocchi che usano una annotazione aggiuntiva che permette di evidenziare il testo, ad esempio fare grassetto, fare degli elenchi puntati, delle tabelle, in maniera molto semplice, senza dover andare a utilizzare varie strumenti, come potremmo fare in un word processor. Tutto basato su testo. Il grosso vantaggio è che basta un editor qualunque per andarlo a costruire e può essere tranquillamente letto come puro testo, perché vedete che ad esempio questa parola run che vediamo qui è racchiusa tra asterischi, ma la leggo tranquillamente, quindi lo scopo di evidenziare quella parola se lo leggo nel testo è equivale a quello che posso ottenere. I documenti Markdown e i notebook sono una variante particolare all'interno di R, possono essere, diciamo così, elaborati con un processo che si chiama knitting, da K-N-I-T, che è il verbo inglese per lavorare a maglia, quindi sferruzzare se volete. Qual è l'idea? È che vengono presi questi frammenti di Markdown, il testo viene, dove è annotato, viene convertito opportunamente, dove c'è del codice R viene eseguito, viene preso il risultato e il tutto viene cucito assieme a produrre quello che è un documento HTML. Quindi se io vado qui e faccio un preview, quello che ottengo, ah, giusto, devo salvarlo. L'ho salvato come un title, va bene, non importa, faccio un preview e ottengo qui sostanzialmente questo output. L'output che viene visualizzato qui nel viewer riporta il titolo del nostro documento, che è quello che troviamo qua su in cima. Quindi title, due punti, in questo blocco iniziale di descrizione. Poi ritroviamo, ad esempio, provo a ingrandire un po', forse si riesce a vedere meglio. Questa parola run, vedete, è in italico, quindi il singolo asterisco prima e dopo una parola o una sequenza di parole sostanzialmente mi evidenzia quella sequenza mettendolo in italico. Se invece di mettere un unico asterisco ne metto due, due prima e due dopo, salvando viene rigenerato il tutto e vedete che diventa un grassetto. Questo blocco che vedete qui, rmarkdown, tra quadre e poi un url, tra parentesi tonde, sostanzialmente permette di mettere un hyperlink. Quindi quello tra quadre è l'etichetta che io leggo, vedete qui rmarkdown, e quello tra parentesi tonde subito dopo attaccato è l'url che viene seguito. Come notazione markdown, quindi per la formatazione del testo, abbiamo visto la possibilità di mettere in italico, quindi italico con un singolo asterisco prima e dopo, in grassetto col doppio, poi ho la possibilità di andare a riportare del codice che è del testo che viene interpretato come codice e quindi ad esempio posso mettere una funzione che si chiama codice, aperta e chiusa. Quando inizia una serie di elementi con un trattino o anche un asterisco in prima posizione, questo viene interpretato come una lista puntata, che può ovviamente avere anche dei sotto-elementi vari. Se salvo, vedete che qua di fianco trovo l'italico, il grassetto, il codice e i sotto-elementi. In questo modo noi abbiamo tranquillamente la possibilità di andare a mettere vari elementi. Allora, come si riesce a vedere questo viewer? Sostanzialmente se voi andate a fare un click su questo comando preview, vi genera tutto e ve lo fa vedere. Nel momento in cui salvate, il tutto viene aggiornato anche di qua. Attenzione al creare, ecco, per avere questa visualizzazione, questo aggiornamento immediato, a creare quello che si chiama un notebook. Quindi quando andate a fare un più, scegliete R notebook. Ok, abbiamo poi le tabelle. Le tabelle sono fatte anche qui in maniera, sto sonato, artigianale. Non pensate di riuscire a fare delle tabelle estremamente complicate con questo approccio, però una tabella molto semplice in cui ho, ad esempio, matricola, barra verticale, nome, nome, trattino, barra, trattino, barra e tutti i trattini. Quindi, uno. Avete che ovviamente è molto approssimativo, si tratta di, se vogliamo leggerlo bene, anche in formato testuale, si tratta di andare a mettere opportuni spazi. Allora, a me non apro sul viewer, ma apro una finestra a parte. Può darsi che dipenda dalle impostazioni. Allora, se voi andate qui, scusate, forse qui, sulla freccetta, c'è la rotellina, se fate il click sulla freccetta di fianco, vi dice dove aprirlo, se in una finestra separata o in un pane, quindi nel pannello di fianco. Se voi scegliete in viewer pane, ottenete sostanzialmente quello che vedo io. Allora, sicuramente a me è più comodo farvelo vedere qui, perché è tutto sulla stessa finestra. Se lavorate, che so, con un doppio monitor, può essere comodo averlo in una finestra separata, quindi sta a voi scegliere come visualizzarlo. Per cui, adesso salvo velocemente questo, vi faccio vedere la tabella che esce fuori. Un altro aspetto importante è che questo tipo di visualizzazione, cioè il tipo di fonte, il carattere, le dimensioni, le notazioni, possono potenzialmente essere cambiate. Infatti, se io vado qui in preview e... No, scusate, vado di qui e vedo... Vado a vedere Output Options. Tra le varie cose ho... Il team, Apply Team. Il tema è l'insieme di colori, font e... Diciamo, dettagli di visualizzazione che possono essere applicati. Quindi questo che vediamo è il default, però se io vado a scegliere un... Spacelab, ne ho preso uno a caso, ok? Non so bene cosa sia, e vado a salvare. Vedete che nella parte iniziale mi viene scritto il tema. Se vado a salvare, vedete che cambiano un pochettino i font e la formattazione. Ci sono dei font ovviamente chiari, e ci sono dei font... Adesso ne cerchiamo uno, che potrebbe essere... Readable. Vedete, questo qua cambia... è un tipo di font con... Serif, con le grazie. Ok? Qui, di nuovo, va a... Se vado a prendere... Allora, non ricordo più, credo che ci sia qualche... Vabbè, questo è un altro ancora. Potete sperimentare, cercare quello che più vi piace. Quello che io genero automaticamente, a partire da un notebook, è un file HTML. E... File HTML che viene mostrato qua. Se andiamo a vedere nei file, qui vedete il tab file che c'è qui di fianco, c'è... Vedete un untitled.nb.html. Se voi aprite questo file con un browser qualunque, sostanzialmente vedete esattamente quello che vedete nel pane. Ok? Altre cose che potete fare a partire da un documento markdown, torno sul viewer, sono andare a generare non la preview, che è questa che viene aggiornata ogni volta che io salvo, ma ad esempio generare un PDF, o generare un documento Word a partire da questo. Il PDF richiede di installare alcuni pacchetti, quindi... non è detto che funzioni sempre. Il Word tendenzialmente invece funziona sempre. Per cui l'idea è che è molto comodo scrivere una prima bozza di un documento, una relazione, eccetera, in questo modo, e poi andare a generare un documento, HTML, Word o un PDF, che eventualmente uno può successivamente andare a ritoccare. Il codice è racchiuso tra queste tre apici inversi. Non è l'apice normale, ma è l'apice inverso. Non so come potete farlo sulla vostra tastiera, però se voi fate un clic destro, no, scusate, un insert e andate a scegliere R, vi crea un blocco di testo già pronto in cui potete andare a scrivere del codice R. Il codice R può essere eseguito o col solito modo, quindi comando contro un invio, oppure andando a cliccare sul pulsantino verde che sta qui di fianco, e vi esegue esclusivamente quel blocchetto. Ovviamente potete anche qua su dal comando andare a eseguire tutti i blocchetti. Nel momento in cui voi andate a eseguire il blocchetto, viene prodotto un output. Ecco, in questo caso, CARS sono dei dati già predefiniti, plot è la funzione che fa il plot dei dati. Il risultato è un diagramma di questo tipo. Nel momento in cui voi eseguite un blocchetto di codice R, questo inizia a far parte del vostro documento. Quindi, se voi salvate, ecco che lo vedete comparire dall'altra parte. Questo è quello che succede con i notebook, con la preview del notebook. Vi fa vedere soltanto l'output del codice che voi avete eseguito esplicitamente. Se invece, invece di fare la preview, andate a generare un documento HTML, un PDF, un Word, vengono eseguiti tutti i blocchi di codice e quindi viene generato l'output. Il notebook con la preview è pensato per andare a eseguire a mano i singoli blocchetti e farvi vedere il risultato a fianco. Adesso vi pesco un'immagine. Vediamo se riesco a trovare un'immagine. Non me l'ha copiato. Lo posso copiare a mano dentro la cartella non lo vedete perché l'ho copiato direttamente dal file manager. devo andare a fare qui un click refresh per ottenere l'immagine. Quindi per completare la nostra panoramica di Markdown io posso mettere un punto esclamativo delle quadre e tra le tonde il nome di un file immagine. Mi viene mostrato direttamente qua e se salvo lo trovo qui nel mio output. allora domanda non ho il tasto preview in cima allora se tu fai un click sulla freccetta di fianco al preview dovresti avere tante opzioni tra cui preview notebook un'altra cosa che è tutto sommato equivalente è andare a mettere qui vedi dopo output metti una riga con due spazi e poi html notebook questo dovrebbe consentirti dopo che salvi di avere la preview ok perfetto poi diciamo che questi dettagli non mi fanno più di tanto una volta che poi avete preso la mano avrete modo di sperimentare senza particolari problemi quindi l'idea è ho un documento con del testo evidenziato in maniera molto più semplice rispetto a quello che potrebbe avvenire in un word in un word process o piuttosto che direttamente in html o con altri linguaggi più complessi tipo latex che mi permettono di formattare di dare una formattazione base al mio testo l'idea qual è e di poter andare a costruire dei documenti dei report ragionevoli adesso se io faccio la generazione di un pdf mi da subito un errore perché probabilmente mi manca qualche cosa nell'installazione ma proviamo col word così vediamo il risultato in word ecco questo è il risultato di word che mi viene aperto vedete che è un documento word in cui io posso andare eventualmente a modificare qualunque cosa ok il bello di questa cosa qua è che posso andare a mettere tranquillamente del codice commentarlo dire cosa sto facendo descrivere la procedura parole e poi andare a eseguire i calcoli le elaborazioni generare i grafici e quant'altro un altro aspetto molto interessante ve lo accenno ma non vi do informazioni troppo dettagliate c'è questo sito rmardown rstudio.com con un sacco di documentazione una cosa che io posso andare a fare è aggiungere anche delle equazioni scritte con la notazione che funziona in latex per cui per chi conosce latex va bene per gli altri sappiate che io posso andare a scrivere tranquillamente f di x uguale se voglio mettere una frazione metto backslash frac e poi tra due copie di graffe vado a mettere numeratore denominatore per cui ad esempio posso mettere backslash sum che sta per la sommatoria x underscore i che vuol dire x con il pedice i per y underscore i elevato al quadrato questo posso mettere il prodotto e sotto posso mettere il logaritmo di x i al quadrato vedete che subito sotto mi viene visualizzato il risultato e questo permette di andare a inserire delle formule matematiche relativamente complesse che altrimenti sono difficili da scrivere il grosso vantaggio di nuovo è che io scrivo quella riga di testo e mi viene generato quello che vedete sotto quindi molto notazione molto sintetica che mi permette di fare tanto a questo punto vi apro un altro documento così iniziamo a fare un piccolo esercizio se non viene visualizzato in automatico non mi ricordo esattamente che librerie vengono utilizzate quindi potete controllare su rmrdown.studio.com e dovrebbe darvi dovrebbe dirvi che cosa è necessario installare perché funzioni correttamente l'immagine io posso andare a mettere eccola qua punto esclamativo poi tra quadre metto l'eventuale etichetta ma potrei anche non mettere nulla quindi aperta e chiusa quadra e poi tra tonde il nome del file o il path completo quindi c due punti eccetera eccetera se volete o al limite potete anche mettere un url quindi riuscite a fare un sacco di cose abbastanza varie è esattamente uguale al link l'unica differenza è che c'è il punto esclamativo davanti allora a questo punto vi creo un nuovo notebook svuoto tutto ok e quindi qui esempi 29 marzo ok quello che abbiamo visto finora era giusto per darvi i concetti fondamentali qui andiamo ad aggiungere un frammento di codice R io lo scrivo direttamente se volete poi farvelo inserire manualmente con il pulsante in alto va bene lo stesso tra l'altro vedete che qua quando io faccio un insert posso inserire anche il codice python codice c++ sql del javascript codice bash quindi della shell interattiva e questo viene eseguito ok quindi volendo posso mettere tanti blocchi di codice anche in linguaggi diversi proviamo a vedere cosa succede andando a prendere un pezzo dell'esempio della volta scorsa la volta scorsa avevamo allora le percentuali eh tante avevamo boh 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 sta guardando se avevamo va bene questo qua il vettore usiamo sempre notebook che è più comodo in realtà io poi posso trasformarlo in un documento html piuttosto che pdf basta andare a modificare questo questa riga che c'è qui in alto dicendo che tipo di file andare a generare il vantaggio del notebook è che adesso lo salvo e lo chiamo esempi qui esempi 2021 03 29 punto rmd nel momento in cui faccio preview mi ritrovo di qua il risultato per cui è comodo e appena salvo di nuovo mi aggiorna la preview questa operazione cosa fa? mi dà un errore e non so a cosa è dovuto probabilmente ok se lo rieseguo scompare non ho nulla perché faccio un'assegnazione però se vado a mettere v subito sotto e rieseguo vedete che ottengo l'output appena salvo ottengo di là nella nella preview il codice vedete su sfondo grigio e sotto l'output che viene prodotto ok quindi è comodo andare a utilizzare questo notebook per appunto come fosse un un tacquino in cui io vado a scrivere i miei calcoli il vantaggio è che i calcoli non li devo svolgere schiaccio il pulsante e vengono svolte automaticamente e il risultato mi viene messo sotto quello che vorrei vedere con voi è come vengono gestiti i dati più complessi quindi i dati tabulari ad esempio un foglio excel piuttosto che un altro tipo di dati in R tramite una struttura dati che si chiama data frame prendiamo dei dati tanto per cambiare andiamo a prendere vediamo un po' qui non ce l'ho vediamo il foglio già aperto eccolo qua allora l'url è questo ve lo copio in chat così ce l'avete direttamente e lo vado a dire e lo vado a scrivere qua ok quindi prendiamo i dati disponibili sul repository sul repository gtab della protezione civile e metto il link in particolare andiamo a prendere i dati possiamo prendere i dati andamento nazionale quindi vado a prendere dati in dimensione nazionale e se scorro in fondo ho questi che sono nazionale latest csv clicco qua e questi qua sono soltanto scusate gli ultimi non mi servono molto vediamo questo secolo ecco questo qua direi che è più completo e quello che voglio fare è sostanzialmente andare a scaricare questo file ok non so se c'è il pulsante di download esplicito però se faccio raw ottengo i dati quindi vado a copiare l'url che trovo qui e che vi metto anche in chat quindi questo è il file csv che io sostanzialmente salvo quindi controllo s dal browser e vado a salvare qui dentro punto qui se vado a vedere file se voglio vedere qui nei file vedete che trovo questo file andamento nazionale csv punto txt ok il txt me l'ha aggiunto il browser scaricandolo dipende dal browser che avete potrebbe non avervi aggiunto questo txt in fondo ok quello che faccio è di andare a fare un rename togliendo il txt in fondo perché confonde a questo punto vado a creare un blocco di codice r subito dopo aver scritto aperta graffa r posso andare a mettere un'etichetta che mi dice che mi descrive sostanzialmente quello che sto facendo è comodo perché se scrivo ad esempio caricamento dati e salvo qui sotto in fondo vedete che ho tutti i blocchetti di codice e di fianco l'etichetta quindi se ho un file relativamente lungo dare dei nomi a questi chunk questi blocchi di codice è importante perché mi permette poi facilmente di andare a recuperarli ok altra cosa che posso fare qui in alto sulla destra quella che si chiama l'outline del documento in realtà non ho dei titoli quindi non li vedo l'altra cosa che ho è quando metto dei titoli questi mi vengono considerati ecco la cosa che non vi ho detto prima su markdown è che posso andare a mettere titoli di livello 1, 2, 3 eccetera mettendo un hash davanti quindi questo è un titolo 1 2 titolo 2 eccetera e vedete che titolo 2 è un po' più piccolo dell'1 eccetera titolo 3 eccetera eccetera quindi prima parte caricamento dati come faccio a caricare i dati ci sono l'avevo accennato nella lezione dell'altra settimana quella pre-registrata varie funzioni che permettono di leggere i file diciamo che vogliamo andare a scrivere dentro una variabile che chiamiamo covid i dati che stanno in quel file di testo e quindi io faccio read .csv e qui vado a mettere il nome del file nome del file che è il nome di questo file che abbiamo scaricato quindi dpc trattino covid eccetera quindi qui vado a scrivere dpc trattino se faccio ctrl spazio automaticamente mi va a recuperare un file che ha quel nome lì nella cartella corrente e quindi evito di sbagliare il nome del file scrivendolo in generale tutte le volte che schiacciate ctrl spazio r r studio in realtà non r normale prova a completarvi la riga ad esempio se avete il nome di una variabile lunga iniziate a scriverla ctrl spazio ve la completa ovviamente se non ci sono ambiguità se no vi da l'alternativa ok quindi quello che facciamo qui è andare a leggere il tutto all'interno di un data frame ok quindi il primo passo leggo leggo i dati dal file in un data frame un data frame è una struttura che permette di andare a memorizzare i dati in formato tabulare ovvero organizzati in righe e colonne dove ogni riga è un'osservazione e le colonne sono le varie diverse variabili di quell'osservazione da cui se io voglio sapere come è fatta il mio data frame posso ad esempio andare a utilizzare la funzione head che mi restituisce la testa della lista della scusate della del data frame e quindi i primi le prime righe quindi se faccio head di covid questo mi dà il risultato di là non vediamo ancora nulla perché non abbiamo ancora lanciato il nostro blocchetto di codice quindi se io faccio un run inizio a vederlo anche di qua ok vedete data stato ricoverati con sintomi terapia intensiva eccetera e qui posso andare a a scorrere se salvo di qua vedete che ho sostanzialmente lo stesso tipo di rappresentazione se le colonne sono troppe quello che posso fare prima di fare head è andare ad esempio a vedere i nomi delle colonne e questo lo faccio con names di covid quindi se eseguo questo e salvo il risultato è quello che vediamo qua vedete questi qua sono è un vettore di stringhe che corrispondono ai nomi delle colonne del nostro data frame ok quindi queste sono i nomi delle colonne del data frame domanda come facciamo se non vediamo il file nei files allora verificate di averci messo il file effettivamente dentro se non lo vedete qua quello che potete fare è andare a fare more allora c'era un pulsante di refresh ecco scusate qui in alto vedete c'è un refresh e vi rinfresca il contenuto del del vostro elenco file se non lo vedete neanche così probabilmente non l'avete messo in quella cartella ma l'avete messo in un'altra cartella quindi il refresh però vi garantisce che quello che vedete nei file sia aggiornato con quello che effettivamente è presente sul disco domanda head prende solo le prime righe sì head prende soltanto le prime sei righe infatti mi fa vedere sei rows se invece di mettere head metto tutto questo mi fa vedere tutte le righe se da erro in file non posso aprire una connessione è possibile che il file non sia presente o non sia presente dove dove voi pensate se il file si trova in un'altra cartella qui dentro voi potete andare a mettere il nome completo del file ok c due punti slash slash eccetera eccetera attenzione a utilizzare non il backslash ma lo slash normale quindi se ad esempio nella cartella superiore se voi mettete punto punto andate nella cartella superiore una volta che voi avete scritto il link qua se voi andate qui e cliccate vi apre direttamente il link in un browser e quindi da lì potete salvare il file nella cartella su cui state lavorando ok il nome della cartella su cui state lavorando è qua su ad esempio nel mio caso è home documents teaching vq anno accademico 2021 r examples ok qua su in alto sopra in cima alla alla parte di files allora se vi dice non posso aprire la connessione allora quello che potete fare è fate un view file di questo e dovreste trovarvelo qui ok se questo funziona vuol dire che il file è presente ed è corretto perfetto primo passo il secondo passo che potete fare è una volta che cliccate su questo potete fare import dataset e vedete che qui sotto vi dà il codice per poterlo importare ok qui usa una libreria che si chiama reader ma se voi fate import vedete che nell'output vi quindi nella console vi dà va bene l'import di questa libreria e poi la riga per leggere il file se voi prendete questa riga e la copiate nel vostro markdown in realtà le due righe anche il library dovreste riuscire a leggere allora per import se io faccio un click sul nome del file ho due opzioni view file e import dataset facendo click su import dataset apro la finestra di prima domanda come ho fatto come ho copiato il link da github quando sono su un browser nella parte qui in alto dove c'è l'indirizzo c'è tutto il link completo quindi seleziono e copio come ho fatto salvare il file command s o control s oppure se andate nel menu se siamo qui in safari io sono in safari ma se lo fate con firefox o qualunque altro browser save as e poi andate a salvarlo nella cartella in cui avete tutti i vostri file R verificate che sia che sia esattamente questo file qua contenuto ehm ok sì come dice Luca anche con click destro eh qui non c'è il salva eh però su su chrome e su firefox dovrebbe esserci dopo che avete salvato magari la possibilità che vi chieda il formato in cui salvare e fatelo salvare come file di testo normale in ogni caso vi metto il file qui in chat ok qui se avete problemi di salvarlo potete salvare direttamente dalla chat di di zoom ok ok si può darsi che vi siete spostati dalla cartella e quindi alla fine non vi desse quella corretta ok allora quindi i dati buona parte dei dati che noi tratteremo sono in formato tabulare quindi una tabella e sono salvati spesso o in un file CSV che è il formato più neutro e testuale oppure in un foglio Excel oppure sono memorizzati su un database una volta che io ho il mio formato quello che posso fare è andare a analizzare i dati ok per cui una volta che ho il tutto allora domanda i data frame sono analoghi sono simili ai data frame di python pandas sì diciamo l'idea è analoga sì c'è qualche piccola differenza di struttura ma concettualmente sono quelli sono un formato sono dei dati formato tabulare organizzati per righe con le colonne e ogni colonna ha un certo suo tipo una cosa che noi possiamo andare a vedere qui è che ad esempio la data è memorizzata lo vediamo qui sotto come un carattere lo stato è una colonna di tipo carattere ricoverati è un file di tipo intero è un valore di tipo intero terrati più intensiva di tipo intero ok quello che possiamo fare ad esempio cosa molto molto semplice è quella di andare a vi creo un altro blocco di testo proviamo a visualizzare l'andamento dei ricoverati ci sono tanti tanti modi di visualizzare di creare dei grafici per il momento noi ci limitiamo a quelli base poi più avanti vedremo che ci sono delle librerie delle funzioni molto più sofisticate di quelle di quelle base attenzialmente se noi facciamo plot e andiamo a prendere la variabile e poi dollaro dollaro è l'operatore di accesso quindi covid dollaro vuol dire prendi il data frame covid e in particolare seleziona la colonna che si chiama vedete che automaticamente mi apre questa scelta di tutte le colonne del data frame ok per cui io vado a scegliere ad esempio ricoverati con sintomi se eseguo questo vedete che ho questo grafico non lo vedo ancora di là ma se lo salvo se salvo il file anche qui nella preview ho esattamente lo stesso grafico è un grafico di tipo scatter la dispersione dove sull'asse x ho semplicemente l'indice del dato la posizione e sull'asse y ho per l'appunto i valori di quel dato io non ho dato nessun parametro e quindi mi ha fatto un grafico secondo le caratteristiche di default che sono quelle di usare dei punti punti rappresentati come cerchi vuoti è un grafico che diciamo nel 90% dei casi è accettabile ed è legibile se voglio utilizzare un altro tipo di grafico ad esempio utilizzando una linea posso ad esempio andare a mettere virgola t che sta per tipologia uguale e metto una stringa che contiene l che vuol dire linea se faccio questo il risultato del grafico è questo ok? un pochettino più sensato per il tipo di dato che noi vogliamo andare a mostrare ok? Se è un avvento temporale le linee sono tendenzialmente più significative rispetto a semplicemente dei punti domanda come facciamo a mettere le date sull'asse x adesso ci arriviamo allora vi faccio vedere velocemente l'help della funzione plot in realtà qua me ne fa vedere in quantità qui plot ha sostanzialmente due parametri fondamentali che sono x e y se io do soltanto x ma non do y x viene interpretato come il valore e come valore y e la x viene interpretata come l'indice che è quello che viene fatto qua ok? Ho una serie di valori immagino che vengono equidistanziati con un indice sempre uguale e vado a vestire il risultato ok? Volendo posso mettere due valori che sono x e y vado qui sotto a mettere l'altro grafico e quindi vado a mettere ricoverati con sintomi questa è la y e invece covid dollaro data dollaro non me lo fa vedere data virgola quindi covid data è la x ricoverati con sintomi è la y se io eseguo qua mi dice attenzione perché questo è una stringa in effetti se io vado a visualizzare covid data ve lo faccio qui sotto nella console vedete che ho sostanzialmente delle stringhe posso provare a utilizzare la funzione as date di covid data e questo vedete che mi genera delle cose che sembrano delle stringhe ma in realtà sono dei dati quindi as date di covid data e i miei sintomi sulla y a questo punto vedete che ovviamente le funzionalità grafiche di base sono molto molto base ok per cui dovrei andare ad aggiustare la visualizzazione dell'asse qui non riuscendo a mostrarmi i mesi perché sono troppo appiccicati e tantomeno i giorni ha deciso di mostrarvi semplicemente l'anno quindi qui abbiamo il 2021 non perdo tempo nell'andare a spiegarvi come fare a personalizzare questo tipo di grafici perché tutto sommato sono poco utilizzati c'è la documentazione se siete interessati più avanti parleremo di un'altra libreria grafica che si chiama ggplot2 ecco su quella invece decisamente dedicheremo del tempo perché è molto più usata e soprattutto è molto più potente quindi non perdiamo tempo su questa libreria che ha capacità limitate invece dedicheremo molto più tempo sulla libreria che invece ha molte più potenzialità per capire come andare a personalizzare le visualizzazioni allora domanda che cosa fa sdate sdate sostanzialmente converte questa che è un vettore di stringhe in un vettore di date ve lo scrivo ve lo faccio vedere qui sotto nella nella console cancello un attimo tutto quindi se io faccio class di 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 covid data mi dice che è un carattere ok l'abbiamo visto e infatti non riusciva a mostrarmelo come scissa cioè è un carattere quindi non riesce a utilizzarlo come una coordinata se io invece faccio dd uguale freccia as punto date di covid data poi faccio class dd vedete che a questo punto ho un nuovo tipo che è date a questo punto la funzione plot interpreta quello come una data quindi non è un tipo numerico però è un tipo che ha chiaramente un valore ordinale diciamo che è su una scala di tipo intervallo e quindi è in grado di utilizzarlo come una scissa il nome di questa classe come vedete è scritto in maiuscolo perché date non è un tipo di dato primitivo predefinito ok è un tipo di dato insomma aggregato costruito da altri elementi però fa parte delle librerie standard di r e quindi lo posso usare tranquillamente per i grafici e per altre cose ok allora immaginiamo di voler andare a fare un grafico ad esempio soltanto dell'anno 2021 come possiamo farlo beh si tratta di andare a selezionare una porzione dei dati che riguarda soltanto il 2021 allora prima considerazione la colonna data del mio data frame inizialmente letto come una stringa in realtà a me fa molto più comodo che sia un date quindi una data e quindi abbia varie proprietà numeriche quindi quello che posso fare tornando su quando vado a leggere i dati è andare ad esempio a dire covid dollaro data freccia as date di covid dollaro data cosa fa questo prende la colonna covid data che è la prima del nostro data frame lo vediamo qua sotto la converte in data passandola tramite quella funzione as date e assegna risultato alla colonna che si chiama covid data quindi sostanzialmente sovrascrive la colonna covid data con la versione convertita in stringa di quello che c'era prima quindi se io lancio questo vedete che la colonna data qui viene indicata di tipo date ok a questo punto qui sotto invece di fare as date lo posso togliere perché in realtà l'ho già fatto prima ottengo quello che volevo qui invece voglio semplicemente solo i dati del 2021 posso andare a costruire una variabile indicatore indicatore 2021 emetto covid data maggiore o uguale di as date 2021 2021 01 01 cosa fa quella riga che ho appena scritto è un confronto tra due vettori quindi confronta in realtà il secondo vettore è a dimensione 1 quindi viene riciclato confronta tutti gli elementi di covid data con quella data che è primo gennaio 2021 tutti quelli che sono maggiori o uguali quindi successivi o uguali a quella data diventano true quelli che invece sono precedenti diventano false quindi è una variabile indicatore l'abbiamo visto nell'esempio dell'unidì scorso negli esempi di unidì scorso ok a questo punto posso utilizzare una variabile indicatore per andare a selezionare un sottoinsieme del mio data frame riferito all'anno soltanto 2021 per cui se scrivo vado a scrivere covid punto 20 21 freccia faccio covid quadra indicatore indicatore 20 21 virgola il primo componente è la riga e quindi vado a prendere le righe in cui quel indicatore è vero quel indicatore è vero soltanto per quelli che hanno una data maggiore o uguale del primo gennaio 2021 ok a questo punto posso tranquillamente andare a scrivere plot covid punto 20 21 dollar data e covid punto 20 21 ricograti con sintomi ok a questo punto se non ho sbagliato nulla otteniamo i dati del 2021 vedete che gennaio 1 febbraio 1 marzo 1 ok primo marzo primo gennaio e primo primo gennaio primo febbraio primo marzo le date sono in formato diciamo anglosassone con prima al mese e poi il giorno ok e i numeri sono quelli che vediamo qua un altro modo di scrivere i plot è quello di utilizzare quella che si chiama una funzione quindi invece di scrivere plot così posso scrivere ricoverati con sintomi tilde quindi il piccola biscia non so allora io ho alt 5 non so sulla vostra tastiera come lo si possa fare alt 126 in windows ottimo grazie tilde data cosa vuol dire tilde vuol dire funzione di quindi mi fa il plot dei ricoverati con sintomi in funzione della data ovviamente devo andare a dire da quale data frame prendere quei due quelle due colonne per cui data uguale covid 2021 qui t lo possiamo scrivere per esteso type uguale a l che vuol dire linea volendo posso anche andare a mettere color uguale red qui una virgola rieseguo e ottengo sostanzialmente questo output domanda errore i valori xlim devono essere finiti allora xlim sono i limiti dell'asse x i valori devono essere finiti vuol dire che all'interno dei dati che stai cercando di di plottare o quei dati sono vuoti e quindi non ci sono dati e quindi i valori del limite non riesci a calcolarli che sono sostanzialmente il minimo e il massimo tra i dati che voi calcolate oppure il risulto sono dati quei dati sono risultati di qualche operazione per cui non so c'è ad esempio una divisione per zero e quindi un infinito dipende se tu hai rieseguito allora questa istruzione qua funziona se in covid data ci sono dei dati di tipo date quindi quello che io ho fatto prima è qui andare a aggiungere questa riga covid data freccia sdate di covid data ed eseguire questo a questo punto vale tutto nel mio environment quindi il fatto che un frammento di codice sia primo sia dopo non vuol dire dipende dell'ordine con cui io li eseguo esplicitamente con questo pulsante una volta che l'ho eseguito e quindi sono sicuro che nel mio file nel mio data frame covid ci siano nella colonna data dei delle informazioni di tipo date allora posso andare a scrivere questo quindi se io vado a prendere questo e faccio vedete ho selezionato soltanto il nome della variabile e faccio contro l'invio vedete che quello che ottengo è una serie di valori booleani un sacco di false e qualche true ok true sono gli ultimi perché ovviamente sono quelli più recenti ok quindi questo crea questa variabile indicatore che è una variabile di valori booleani true dove voglio ottenere i dati false dove invece voglio scartare a questo punto questa linea che vedete qui sotto va sostanzialmente a fare uno slice della nostra del nostro data frame dove le righe da tenere vedete che c'è una virgola ok attenzione alla virgola perché è importante prima della virgola ci sono le righe che voglio ottenere e sono essendo quella una variabile di tipo booleano quelle in cui il valore di quel di quel vettore è true dopo la virgola non c'è nulla il che vuol dire prendi tutto dopo la virgola io avrei potuto anche mettere le colonne che volevo ottenere se volevo non soltanto affettare in orizzontale ma anche andare a prendere un sotto insieme delle colonne allora qui s character date me la il completamento in realtà è simile lo ve lo rigenero in questo modo ok quindi s date grazie per l'indicazione mi era sfuggito quindi qui s date prende una stringa e la converte in data in questo modo questa stringa me la converte in data e riesco a fare un confronto con le date che stanno dentro questa colonna data di covid il risultato è il mio variabile vettore di indicatore che uso per affettare per fare lo slicing di covid andando a generare questo nuovo data frame che è un sotto insieme di data frame finale ok quindi questo è slice del data frame con solo i dati del 2021 ok e poi faccio il plot il plot vi ho detto come alternativa è comodo molto spesso andare a esprimere questa cosa in termini di funzioni invece che di colonna x e colonna cioè coordinata x e coordinata y vado a mettere il nome della colonna tilde che vuol dire in funzione si legge in funzione di data e poi metto questo parametro data uguale a covid 2021 che mi dice da quale data frame andare a prendere quelle colonne metto tipo uguale a l che vuol dire metti una linea e non dei punti e poi col uguale red il risultato è questo diagramma che vediamo qua aggiornato ovviamente all'ultimo quali sono gli ultimi dati se voglio sapere quali sono gli ultimi dati quello che posso fare è andare a fare non head ma tail di covid tail è il contrario di head perché prende la coda ovviamente le ultime righe quindi se faccio tail vedete che ho le righe 399 che è quella riferita alla data del 28 marzo ok quindi ieri ricoverati con sintomi quindi le solite colonne di prima solo che mi prende le ultime serie invece delle prime sei quindi head e tail sono comodi per andare a spiare cosa c'è all'inizio e alla fine del dato perché se le stampo tutti sono 400 righe 399 quindi è difficile andare a capire qualcosa ovviamente le altre colonne sono tutte numeriche quindi su quelle io posso andare a calcolare la somma fare la media la mediana deviazione standard eccetera eccetera ok a questo punto se non l'avete già fatto guardate bene la la lezione pre-registrata perché la seconda parte parla di data frame e quindi vi do qualche informazione in più un po' più specifica e dettagliata vi pubblico domani o al massimo dopo domani un'altra lezione in cui vi riprendo sostanzialmente le caratteristiche principali di R Markdown quindi i notebook e le altre parti la lettura dei dati e qualche informazione in più sul plot elementare io qui vi ho fatto vedere plot di tipo scatter o a linea ovviamente abbiamo anche dei plot a bar qui posso andare a prendere a fare un bar plot di tale covid dollaro terapia intensiva vado a prendere le ultime sei righe e faccio un bar plot ok c'è qualche piccola variazione ma queste sono le barre ok ho caricato la lezione questo weekend no questo weekend non ho caricato nessuna lezione anche perché queste ultime cose soprattutto sulle non su Markdown ma sul su sui data frame erano già parte della lezione precedente quindi non vi ho caricato su tante cose di cui non saremmo riusciti a parlare oggi ok con oggi abbiamo visto un po' di esempi di data frame e quindi siamo sostanzialmente in pratica vi aggiungo qualche informazione in più sui plot di base e vi riepilogo un po' le caratteristiche principali di Markdown in modo che a ritorno subito dopo le vacanze quindi il giovedì della settimana prossima voi siete in grado di fare un'esercitazione che consiste nel andare a prendere un file Markdown che contiene le richieste di quello che dovete fare e voi dovete andare a diciamo così a riempire i blocchetti di codice in modo da farlo correttamente ho detto di rivedervi la parte la seconda parte della lezione precedente non quella di questo weekend ma quella precedente in cui parlavo di data frame la struttura dati che abbiamo utilizzato in questo caso allora intuitivamente è facile da utilizzare bisogna fare attenzione ad alcune cose ad esempio a come faccio lo slicing bisogna avere ben presente come è fatta la struttura per scrivere correttamente lo slicing più un altro paio di dettagli ok man mano che prendete la mano e utilizzate sempre di più risulterà naturale quindi sarà relativamente facile da utilizzare direi che con questo abbiamo finito io vi carico poi questi documenti sul cioè questo file che abbiamo visto sul repository GitHub con gli esempi così potete tranquillamente accedere e eventualmente copiare se vi siete persi qualche dettaglio diciamo che avete le basi se volete andare a sperimentare a giocare con questi dati fatelo pure perché è qualcosa che vi torna utile successivamente per prendere confidenza con queste cose a questo punto noi non ci vediamo più prima delle vacanze ne approfitto per augurarvi buona Pasqua rilassatevi non affaticatevi godetevi il bel tempo sperando che ci sia e così tornate dopo un po' ricarichi più carichi perché effettivamente la distanza è molto molto faticosa da tutte le parti buone vacanze e a presto